Ben trovati al Consolidio. Ben trovato appuntamento con fatti e opinioni, gli uni e le altre sempre molto importanti nello spirito del format, ma anche con le testimonianze, quindi fatti e opinioni, testimonianze soprattutto nel tema di questa puntata, nel quale è con noi per parlare di una vicenda tragica che ancora oggi però è presente nella nostra memoria, Danilo Sulis, che ringraziamo appunto per essere in videocollegamento con noi. Danilo Sulis è già stato qualche mese fa ospite di fatti e opinioni perché parlammo del suo libro da Radio Out a Radio Centopassi. Oggi parliamo perché la sua vita, il suo impegno civile, sociale, politico, culturale, anche artistico, ma anche la sua testimonianza diretta, testimonianza giovanile, è molto legata ad una vicenda che è entrata nella storia d'Italia in una data che è drammatica doppiamente per la storia recente italiana, che è il 9 maggio di 44 anni fa. Perché, come sappiamo, il 9 maggio alle 12.30 Valerio Morucci telefona ad uno dei collaboratori di Aldomoro, il professore Tritto, per dirgli che il corpo di Aldomoro è nella famosa Renault 4, che poi in via Caetani, mezz'ora dopo alle 13.15, sarebbe stata recuperata. Ma in quel momento, diverse ore prima, una decina d'ore prima, nella notte tra l'8 e il 9 maggio, un'altra vicenda drammatica è accaduta in Italia, ma purtroppo in quel momento non se ne aveva sufficiente contezza e percezione perché quella verità fu a lungo oscurata, fu anche oggetto di depistaggio giudiziario, fino a quando poi quella verità emerse. E quella verità riguardava il sequestro, le torture, l'uccisione di Giuseppe Impastato, giornalista, attivista, intellettuale che si batteva contro la mafia a Cinisi e che nella messa in scena della mafia, oltre che ucciso, fu anche fatto apparire in quella prima fase come vittima egli stesso di un tentativo di atto terroristico che egli avrebbe voluto compiere e che magari si cercò di associare nella mente dei mafiosi allo stesso campo delle Brigate Rosse che però subito chiarirono che loro non c'entravano nulla e non ne sapevano niente e la cosa non li riguardava. Poi l'ulteriore depistaggio compiuto dallo Stato italiano, dagli investigatori e dagli inquirenti di quel tempo riguardò anche una ipotesi assolutamente irreale e infondata di un suicidio che Impastato avrebbe voluto compiere. Non era così perché la battaglia condotta dalle persone a lui vicine, innanzitutto i compagni di lotta, di impegno politico ma anche poi ovviamente i familiari, la madre e soprattutto Felice Impastato hanno fatto sì che finalmente la verità giudiziaria e anche quella storica venissero stabilite. Oggi noi ne parliamo con Danilo Sulis perché Danilo, o allora giovanissimo evidentemente parliamo di 44 anni fa quando avvenne l'omicidio, quindi negli anni anche precedenti, incrociò la sua esperienza di vita, di impegno giovanile con quella di Peppino Impastato. Allora, quando è che Danilo Sulis, ancora grazie, vide l'ultima volta Peppino Impastato vivo? Sinceramente non lo ricordo. Però sicuramente c'era stata l'esperienza della radio, l'esperienza anche, allora ovviamente sono passati tanti anni magari le fonti documentaristiche ci aiutano forse più della memoria diretta, no? E allora noi sappiamo che Radio Out nasce nel 77, quindi c'era già un anno di attività di Radio Out, almeno un anno pieno, no? quando lui viene ucciso, ma ancora prima Danilo Sulis, se leggiamo appunto dalle fonti, era impegnato per esempio con attività sociali ma anche con, mi pare, Radio Palle, c'è una Radio Palle. Poi Danilo Sulis è anche un ingegnere, no? Che aveva anche competenze tecniche nel fare funzionare una radio così come erano le radio di quel tempo perché non dimentichiamo che la famosa sentenza della Corte Costituzionale che ha segnato l'atto di nascita legalmente del radio e tv cosiddette libere in Italia e del luglio del 76, quindi molto recente. Sì, sì, in realtà la mia storia con Peppino si incrocia perché io, come ho già detto nel precedente incontro che abbiamo avuto era compagno di scuola di Francesco Impastato, suo cugino, con il quale condividevo l'amore per la musica e con lui, diciamo, grazie a lui sono finito a Cinisi perché appunto con Francesco Sonavo e vengo a conoscere Peppino Impastato col quale poi mi lega anche l'impegno politico e quindi la storia un po' nasce inizialmente già con la mia collaborazione al Circolo Musica e Cultura che è l'inizio, diciamo, di questa attività sociale, culturale che si fa alla Cinisi. Poi appunto nasce Radio Out, io già trasmettevo in una radio a Palermo che si chiamava Radio Pal, come hai detto tu ed era una delle primissime radio nazionali e fa le prime in Sicilia, se forse non la prima e lì, diciamo, nasce un po' l'idea di Peppino di dare vita a Radio Out, anche se già questa idea Peppino l'aveva in testa perché aveva conosciuto l'esperienza di Danilo Dolci e comunque c'erano tante radio che nascevano in varie parti d'Italia e molto del movimento e quindi Peppino già guardava questa esperienza positivamente e aveva già in mente di aprire una radio, però non sapeva come, quando. Il fatto è che noi organizziamo il Festival di Spiaggia Magaggiani che è stato praticamente un raduno di musicisti che io, come ho detto anche nel libro, paragono a una sorta di via di mezzo fra un Festival dell'Unità e Woodstock perché abbiamo fatto incontri, dibattiti e poi invece la sera gli stessi sulla sabbia palco montato in spiaggia, concerti dei vari gruppi provenienti da vari luoghi e io registro già i concerti e anche i dibattiti e invito Peppino a commentare con me in radio a Palermo quella registrazione. Peppino rimane favorabilmente colpito da questa esperienza e mi chiede di trovare un trasmettitore. E così poi nasce un po' la storia. Nel film I Cento Passi c'è un attore che mi interpreta, nel film si chiama Barba Blu, nella vita invece è morto da poco, purtroppo per un incidente. E quindi, diciamo così, la mia collaborazione inizia appunto con il Circo Musica e Cultura, prosegue con Radio Out, anche se io, essendo di Palermo e andando spesso comunque a Cinisi, non ho partecipato alle trasmissioni, diciamo che mi occupavo più della parte tecnica. Appena c'era un problema io correvo la mattina magari a risolvere, visto che la radio trasmetteva fondamentalmente il pomeriggio e la sera. E quindi, diciamo, sono quei momenti in cui io frequentavo Peppino, questi del circolo, fino a quando il circolo ha vissuto, perché poi quando la radio apre dopo un po' che il circolo chiude, e poi appunto questi interventi della radio, e poi ma con Peppino ci vedevamo all'Università Palermo, insomma ci sono state tante occasioni di, oltre quelle nel suo paese, diciamo di Cinisi. A proposito dei fatti che hai rievocato, sul sito della rete Centopassi c'è ancora la locandina, mi pare, del 76, su questo raduno musicale nell'estate, nella spiaggia di Cinisi, che è anche un nome particolare appunto che è rimasto anche nella rievocazione storica, e che forse è anche il momento che segna anche questo slancio, questo entusiasmo anche di Peppino per lo strumento poi della radio, via via appunto che proprio da lì a poco nasceranno le radio, ma come dicevi anche molti anni prima, già nel 70, sia pure come dire in modo abusivo rispetto alla legislazione del tempo, Danilo Dolci, quindi molti anni prima, era stato già protagonista di una esperienza che durò 24 ore, forse neanche, di una radio clandestina, ma attraverso la quale fece sentire la sua voce, la sua voce a favore degli oppressi, degli umili contro le ingiustizie, contro i soprusi del potere, ma il tempo che insomma la polizia postale, i carabinieri, la guardia di finanza arrivassero sul posto e gliela chiudessero, però era rimasto sicuramente un momento, una testimonianza importante che nella coscienza di Peppino avrà fatto breccia, anche perché lui già era impegnato politicamente, da intellettuale, lui già era minorenne. Sì, era partecipato a quella manifestazione. Era proprio presente lì in quella manifestazione, quindi ovviamente era già partecipe dell'esperienza, perché ricordiamo Peppino Impastato nasce nel 48, a gennaio del 48, quindi aveva 20 anni nel 68, ne aveva 30 quando fu ucciso, ma già a 17enne fonda una rivista, c'è una matrice politico-socialista, poi gli impegni in lotta continua nel Pessiup, poi ovviamente per la pace, contro la mafia, ma quindi è un'esperienza politica che lui matura da adolescente subito e che poi incrocia anche con lo strumento della radio. Ma dell'esperienza di Radio Out, cosa ci racconti come testimonianza personale della memoria? Ovviamente al di là di quello che la documentazione ufficiale ci riferisce, a partire anche dal vostro stesso sito, no? Il programma che Peppino... Allora, si cominciò a trasmettere, mi pare, solo sei ore al giorno, dalle 18 alle 24, no? Sì, sì, fondamentalmente i ragazzi di Cinisti che facevano parte della redazione si vedevano già subito dopo pranzo, perché parliamo del notiziario, una cosa che dico sempre anche ai giovanissimi che vengono a trovarci, perché visto che noi riceviamo spesso scolaresche, è un po' come si facevano i notiziari negli anni 60, in tutte le radio, non parlo specificatamente di Radio Out, compravamo vari giornali, vari quotidiani, a ognuno veniva assegnato una notizia da sviluppare e ti leggevi quella notizia in tutti quei quotidiani, noi appunto capitevamo nella sinistra, però ci compravamo anche i quotidiani ufficiali della destra, proprio per comprendere le opinioni di tutti e poi tu facevi un tuo sunto, ti facevi una tua opinione su quella notizia e scrivevi l'articolo o la parte che dovevi dire nel notiziario, quindi questo a me è servito tantissimo a crescere, perché impari veramente a usare l'informazione in un certo modo, oggi magari i ragazzi vedono qualcosa sui social e non solo i ragazzi ma anche i grandi e danno per buono qualunque bufala possa arrivare, invece bisogna sempre guardarsi intorno e leggere le opinioni di tutti per farsi una propria opinione e quella poi devi esprimere, la tua, non quella degli altri, postata e copiata. Certo, è cambiato completamente il mondo e chi ovviamente, grazie anche all'età anagrafica, insomma, della quale ci si può anche dolere per un verso, ma in questo caso certo ci aiuta a poter ricordare con la testimonianza diretta della esperienza di quegli anni che era un mondo completamente diverso in cui ovviamente informarsi non era semplice perché c'erano solo gli strumenti tradizionali, cartacei nella normalità ovviamente sia locali che nazionali e internazionali, ma al di là di questo poi non c'era niente perché c'era solo il monopolio della RAI, nessun'altra possibilità. solo come dire veramente il parlare dal vivo oppure lo scrivere e il leggere libri e giornali, insomma non si poteva fare altro. Quindi l'avvento delle radio come primo strumento non scritto nell'ambito locale è chiaro che ha rivoluzionato il modo di essere, di poter comunicare e ha aperto orizzonti nuovi e Peppino Impastato con la sua idealità si c'è tuffato e faceva onda pazza a Maffiopoli e parlava di Tano Seduto? Sì, diciamo che la caratteristica della sua trasmissione è della sua persona, era questa ironia e quindi ha dato vita a questa trasmissione usando molto lo sberleffo e riciclando a modo suo i vecchi fumetti che leggiamo da Ragazzini dove c'era il capo degli indiani Toro Seduto e lui quindi ha chiamato Tano Seduto il boss di Cinisi, così il municipio, l'ha chiamato il maficipio di Maffiopoli e quindi faceva questa trasmissione, beffeggiando così i boss e credo che ne siamo quasi certi, più che le cose che lui raccontava, quello che ha dato più fastidio alla mafia è a Tano Badalamenti che non era un boss qualunque ma lui controllava il traffico mondiale della droga, quindi era un boss di livello internazionale e quello che gli ha dato fastidio è essere stato attaccato proprio nella sua immagine perché quello è stato forse, è stata la chiave per cui Perpino è stato assassinato, perché come abbiamo visto ha avuto la capacità lui con le connivenze anche di pezzi delle forze dell'ordine e per tanti anni lui è stato il terrorista, soltanto negli anni 90 poi, finalmente grazie a dei collaboratori di giustizia, perché ormai se non sono i collaboratori di giustizia puoi portare qualunque prova, cosa che il centro impastato con Umberto Santino ha fatto per tanto tempo, gli altri compagni di Perpino, a partire anche dalle pietre insanguinate che sono stato trovato nel caso Lara dove è stato assassinato, anzi vi do una bella notizia, giorno 4, quando abbiamo iniziato le conglomerazioni di Perpino Impastato, il sindaco Orlando, per ora attualmente responsabile della città metropolitana, così come il sindaco di Cinisi, hanno presentato il progetto di ristrutturazione del casolare dove è stato assassinato Perpino Impastato, sono tantissimi anni che combattiamo per l'esproprio, perché il proprietario non voleva cederlo, nonostante una grossissima offerta della regione siciliana, fino a quando ora si è arrivato all'esproprio, ancora ci sono delle questioni sospese dal punto di vista anche giudiziarico, ricorsi vari, però ormai insomma il casolare dove è stato assassinato Perpino Impastato, dove sono state trovate le pietre insanguinate, finalmente diventa di fruizione pubblica, anche se noi non ci siamo mai fatti mancare niente, ci siamo sempre andati. Sì, appunto la città metropolitana di Palermo si è intestato a questo progetto, speriamo che vada in porto al più presto possibile, perché è fondamentale per la memoria, visto che quello è anche il luogo del sacrificio, dell'eroismo purtroppo involontario a cui ha dovuto sottoporsi Perpino Impastato, ma con il rischio che purtroppo, se non fosse stato poi per quanti ci sono battuti per la verità, il suo stesso sacrificio non avrebbe avuto la lettura e la conoscenza pubblica che invece poi per fortuna hanno avuto. Io sono sempre in linea con, sì mi senti vero, perché poco fa per un attimo appunto era andato via l'immagine, sì, perfetto. Allora, a proposito di quello che si diceva prima, quando Perpino Impastato nel 77-78 dai microfoni di Radio Out attaccava, dileggiava anche, ma lo smascherava per quello che era Badalamenti. Badalamenti non era assolutamente nella narrazione ufficiale il personaggio che dipingeva Impastato. Certo, ovviamente a Cinisi tutti sapevano che era un mafioso, in certi ambienti lo sapevano, ovviamente gli investigatori e i pezzi dello Stato collusi lo sapevano, ma ancora non c'erano atti giudiziali. Per esempio negli anni 80 la condanna a 45 anni di carcere negli Stati Uniti d'America Badalamenti per la pizza con Necco, c'era la grande inchiesta a cui lavorò Falcone, che era questo grande traffico internazionale di droga per un miliardo e 600 milioni di dollari tra il Medio Oriente e la Sicilia e gli Stati Uniti d'America. Quindi Impastato non ebbe solo coraggio, aveva anche lucidità, capacità di analisi, capacità di informarsi come giornalista, come intellettuale e come persona che appunto ha dato questo grande contributo, ahimè purtroppo, dovendo pagare con la vita per questo. La svolta nella percezione, nella memoria delle persone che hanno condiviso con Peppino Impastato la sua vicenda, la svolta nell'affermazione della verità, non solo in senso giudiziario, in qualche modo è avvenuta già molto prima, per esempio quando un anno dopo riuscite a portare 2.000 persone a Cinisi in quella che è la prima manifestazione antimafia della storia, diciamo, dell'umanità, per quanto ci risulta ovviamente da quando storicamente esiste la mafia. È chiaro che quello, ancora prima che gli investigatori corrotti vengano soppiantati da quelli per bene e così anche i cinque renti e così anche i pezzi dello Stato, ancora prima che accade quello però già dal punto di vista sociale c'è una affermazione netta di coscienza popolare e di testimonianza civile importante. Sì, 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 intanto la percezione, tu parli di percezione della verità, noi la percezione della verità l'abbiamo avuta subito perché quando sono trovate le pietre insanguinate già dentro il casolare dove Peppino era stato, non sappiamo se è assassinato o tramortito, è chiaro che Peppino non era saltato sui binari mentre metteva una bomba, quindi quella è già la testimonianza del fatto che è tutta una costruzione per screditare appunto la figura di Peppino. In passato purtroppo versione che durerà parecchi anni prima che venisse smascherata, quindi la percezione l'abbiamo avuta subito e sì, quella è stata una delle primissime manifestazioni antimafia. Non c'è dubbio sulla vostra percezione, io mi riferivo alla svolta, alla vostra coscienza a quando voi vi siete convinti che, come dire, riuscivate ad affermare la vostra percezione come la percezione vera per tutti, questo è il punto. Sì, sì, ma anche in altri ambienti, anche politici, giovanili e di chi soprattutto conosceva bene Peppino, è stato chiaro che Peppino non poteva essere un terrorista, perché uno chiamava la gente, peraltro quello che avrebbe fatto saltare era un tema locale, quindi c'erano anche i pendolari, magari i padri e i genitori degli amici di Cinesi, insomma, quindi era solo ma poi chi conosceva Peppino anche dal punto di vista politico, sociale, sapeva che Peppino una cosa del genere non avrebbe mai, mai, mai potuto farla e come noi ci hanno accaduto tanti altri, appunto, che sono venuti da varie parti della Sicilia, già la prima manifestazione, già il funerale, già il funerale e successivamente, appunto, alle manifestazioni che non abbiamo mai interrotto, dall'anno dopo, ogni 9 maggio, noi organizziamo sempre le commemorazioni. Poi negli anni successivi ci sono tanti altri delitti di mafia, ognuna con una tipologia o un modente, una valenza diversa, ovviamente da quelle dell'82, prima l'80 c'è Mattarella, poi l'82 la Torre, nel 79 c'è la Statorreina, ovviamente in vario mondo politici, magistrati, giornalisti e poi però per fortuna, ecco, con Chinnici, che a sua volta sarà ucciso, comincia un primo atto, appunto, di conoscenza e di affermazione della verità giudiziaria, nel senso del delitto mafioso di cui è vittima Impastato, poi Caponnetto e poi via via gli altri, ma bisognerà aspettare il 2002, quindi 24 anni dopo, per la sentenza di condanna di Badalamenti come mandante dell'omicidio di Impastato. Una chicca, non so se te l'avevo raccontato quando abbiamo parlato del mio libro, ma là non ne parlo, quindi non credo, quando Badalamenti muore qualche anno fa, diciamo è recente, relativamente recente la sua morte, la moglie chiede di poter portare la salva a Chinnici e nella tomba di famiglia, ecco bene, la tomba della famiglia Badalamenti è quasi accanto a quella dove è sepolto Peppino Impastato, quindi altro che 100 passi, si sarebbero ritrovati insieme, grazie alle proteste della famiglia e di tanti altri, il sindaco ha vietato di portare la salva e quindi Badalamenti rimane in America dove è stato arrestato, visto che peraltro in Italia non gli era stato contestato quasi nessun reato, se non era per gli americani sarebbe stato ancora libero. L'azione, la tenacia di Felice Impastato, di Felice Bartolotta, ecco la madre di Peppino Impastato, ovviamente insieme a quella di tanti altri è stata particolarmente decisiva nel far sì che alla verità e anche a quella giudiziale si arrivasse, peraltro per una casualità un po' della storia, Felice Impastato è morta lo stesso anno, ma 6-7 mesi dopo, rispetto a Gaetano Badalamenti. Dopo la sentenza. No ma già la sentenza, dopo la sentenza. Com'è? Dopo la sentenza. Sì, sì, la sentenza è del 2002, quindi comunque intanto sia Felice Impastato, come dire, come la maggiore delle parti civili di questa storia, sia il mandante dell'omicidio, quindi il massimo responsabile, Gaetano Badalamenti, hanno visto in vita l'atto finale, cioè della vicenda giudiziaria, perché la sentenza è del 2002. Poi entrambi vogliono del 2004, mi pare ad aprile Badalamenti e a dicembre Felice Impastato, ma la cui azione è molto importante e la cui memoria merita, al pari di quella del figlio, di essere tenuta viva. E proprio di recente, per esempio, qui così saltiamo anche proprio quasi all'attualità della cronaca, ci siamo dovuti occupare di una vicenda incredibile, ma ancora aperta sostanzialmente, perché per la schizofrenia anche dello Stato italiano, ma anche con il concorso di casualità e di qualche errore probabilmente, una ordinanza recente dell'anno scorso della Corte d'Appello di Palermo ha ordinato la restituzione al figlio di Badalamenti, Leonardo Badalamenti, il quale magari tecnicamente potrà dirsi incensurato, ma sappiamo benissimo di quali atti è stato protagonista, arrestato, incriminato, poi riarrestato in Brasile, latitante e comunque mai una presa d'atto di distanza netta rispetto al padre, quindi comunque al di là della personalità, delle responsabilità penali, non c'è dubbio che certo non si può dire che sia dalla parte opposta rispetto a quella del padre, quindi una restituzione di uno dei beni immobili di impastato, cioè di Badalamenti, che era stato confiscato alla famiglia Badalamenti, in questo caso al suo erede. Abbiamo avuto ospite una volta qua il sindaco di Cinisi, ma anche il parlamentare Duva, il questore della Camera che si sta occupando di questa vicenda, ad aprile era stata prevista in un primo tempo la restituzione, anche se il comune di Cinisi garantì che semmai sarebbe venuta per equivalente, quindi attraverso il pagamento di una somma di denaro e mai attraverso la restituzione fisica del bene, ma questa è una battaglia aperta che sollecita ancora oggi l'attualità e l'urgenza del bisogno della memoria. Certo, intanto come possiamo raccontare ai giovani che vengono a trovarci e che vedono in noi coloro che ancora combattono la mafia e quindi si caricano anche loro di questa missione, come puoi raccontare a un giovane che è un bene confiscato e viene restituito al mafioso? Questo Badalamenti peraltro aveva un mandato di cattura da parte del Brasile e l'Italia ha rifiutato l'estradizione perché in Brasile i carcerati sono trattati male e quindi non lo potevano mandare. Lui addirittura dopo la prima sentenza va nel casolare, se ne impadronisce rompendo i catenacci e poi va addirittura dai carabinieri a denunziare il sindaco di Cinisti che poi è stato assolto da questa, ma per fare capire proprio l'assurdità della cosa. Sì, diciamo che questa questione della restituzione è addietro degli errori formali, diciamo, delle particelle, insomma non so qui a spiegare, ma anche il fatto che si possono sequestrare i boss, i beni che ha acquistato con i proventi illeciti. Qui c'è dietro tutta una cosa molto dubbia, lui fa comprare questo caseggiato alla sorella che poi glielo dona, a lui, quindi non è frutto dei proventi e quindi non essendo frutto dei proventi deve essere restituito. Ma la cosa assurda è che questa cosa dura anni, il bene viene confiscato, viene dato al comune di Cinisi, con fondi europei viene ristrutturato, era un caseggiato che valava qualche decina di migliaia di euro, pochissimo, distrutto, caduto, insomma, era solo un simbolo e con 400 mila euro è stato ristrutturato. Adesso per assurdo bisognerebbe restituire questo caseggiato al mafioso ristrutturato, quindi l'unica via d'uscita ultimissima che dovesse esserci, ma si invocano altre leggi, dovrebbe essere il fatto di almeno recuperare questi soldi. Certo, una storia drammatica che ancora va a seguire, sperando che l'effetto possa essere il migliore possibile. Da questo punto di vista c'è da dire anche che questa vicenda ha aiutato anche a tenere alta la sensibilità di tutti, istituzioni, pubbliche amministrazioni, organismi vari, ovviamente l'antimafia sociale, le persone che ovviamente hanno conosciuto e sempre mantenuto rapporti diretti con la memoria e con il sacrificio di impastato. Vedremo un po' quali saranno gli sviluppi, ma è molto importante, così come importante è quello che si diceva poc'anzi della iniziativa della città metropolitana di Palermo, di dare ad una fruizione proprio di scopo destinata alla memoria e alla coscienza sulla figura di impastato, quel casolare in cui si consumò purtroppo l'uccisione di impastato. Allora, rispetto a tutto questo, già diversi anni fa c'è stato l'impegno che ha portato poi alla nascita dell'area di Centopassino. Tutto è nato nei compleanni di Peppino Impastato, che come sappiamo è nato il 5 gennaio del 48 e voi ogni 5 gennaio avete sempre fatto qualcosa di importante, dopo che nel frattempo era stata fatta pienamente giustizia con la condanna di badalamenti, mi pare nel 2007 si cominciò con una prima idea e poi da lì nel 2010, sempre di 5 gennaio, la rete Centopassi, poi la radio Centopassi, poi la testata giornalistica Centopassi, poi la radio per i ragazzi Centopassi, anche in collaborazione con la autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza, un impegno collettivo a tutto tondo che oggi vede una Centopassi community presente anche all'estero, in tante città italiane e non solo, non solo a Palermo, a Milano, a Roma, a Danover, a Bari, a Genova, ma in Sicilia anche a Siracusa, da Cireale, quindi una bella comunità senza confini e senza barriere nel nome di Peppino Impastato che veramente merita di essere tenuto vivo, cioè come esempio proprio per la coscienza di oggi. I ragazzi oggi che voi incontrate, con cui interagite in uno dei tanti momenti del vostro impegno complessivo, che atteggiamento hanno, che vogliano di conoscere, di capire, anche di avere curiosità rispetto a questi fatti di 44 anni fa? Beh, i ragazzi sono molto sensibili all'assero di Peppino, di fatto è una cosa che io dico sempre, mentre quando con loro si parla di Falcone, Borsellino, Poliziotti, giornalisti che sono stati assassinati, ma che sono stati assassinati mentre facendo il loro lavoro, i ragazzi lo vedono in un certo modo, mentre invece Peppino Impastato si identificano a molti ragazzi, per questo ancora la figura di Peppino Impastato dà fastidio alla mafia, perché c'è il rischio e qualche altro figlio di mafioso, diciamo, si lascia trascinare da questa esperienza, come quella di Ritatri anche, e quindi si comporti allo stesso modo. E in più il fatto che Peppino Impastato sia così riconosciuto dai ragazzi, c'è questa sorta di identificazione per cui i ragazzi vogliono fare un po' lo stesso percorso. E ti aggiorno su una delle iniziative che non hai menzionato, perché in realtà è relativamente recente, che è il Radio Centopassi Scuola. Abbiamo ogni volta che vengono le scolaresche, ne abbiamo per tutto l'anno, spesso prima di andare via, siccome restano favorevolmente colpiti, perché quando vengono gli facciano fare un'esperienza di giornalismo, che al termine dei viaggi di istruzione spesso vengono per quel motivo facciamo realizzare a loro una trasmissione condotta da loro, gli diamo qualche elemento tecnico e quindi sono loro a condurre la trasmissione, vanno via veramente gasatissimi e quindi spesso sia le scuole, gli insegnanti, gli stessi ragazzi ci chiedono ma se noi volessimo fare una radio, che dobbiamo fare? Possiamo collaborare con voi? E quindi abbiamo dato vita a questo progetto Radio Centopassi Scuola che è in itinere e già abbiamo varie scuole d'Italia che hanno aderito e stiamo facendo delle regie di Radio Centopassi in scuola in varie scuole d'Italia. I ragazzi producono delle trasmissioni con i tempi che vogliono loro e con le tematiche che vogliono loro molto liberamente e poi noi abbiamo una fascia oraria in palinsesso dove mandiamo i file delle trasmissioni che loro producono e poi chiaramente li mettiamo anche nella pagina dei podcast e quindi c'è questa esperienza in itinere. E a proposito invece delle nostre community, parlato di quella di Hannover, voglio darvi un'anteprima, anzi vi fa piacere se ci possiate essere in qualche modo. Il 27 di maggio saremo all'Istituto Mauro Nico di Messina perché non so se avete visto c'è stato in maniera virale in rete lo scorso anno, credo, un video realizzato dai ragazzi di questo istituto che hanno un coro, che hanno cantati Centopassi con un arrangiamento molto particolare, con il sottofondo musicale fatto da una base ritmica di loro che battevano sui banchi, veramente una cosa molto interessante. Li ho invitati pure alla presentazione del mio libro con un collegamento dalla Camera dei Deputati quando ho presentato, ho presentato in anteprima il mio libro. Adesso stiamo facendo un gemellaggio fra la scuola Mauro Lico e fra il rete Centopassi Hannover. Saremo collegati e ci sarà appunto sempre l'apporto del commissario, del questore della Camera ad Uva, ci sarà anche il sottosegretario alla pubblica istruzione e in quell'occasione in Germania invece ci sarà il console italiano ad Hannover e faremo questo collegamento per fare questo gemellaggio, si scambieranno appunto questo gemellaggio e in più daremo il premio Peppino Impastato Targa Centopassi sia ai ragazzi del Mauro Lico sia a un gruppo musicale di musica popolare che tratta anche le motivazioni della mafia che però sta ad Hannover guidato da Francesco Impastato il musicista con cui ho collaborato che adesso vive lì ad Hannover e che ha dato vita al rete Centopassi Hannover e quindi ci sarà questo gemellaggio e questa premiazione online diciamo fatta il giorno 27 pomeriggio. Bene, importanti queste notizie su queste iniziative che possono ulteriormente implementare questa coscienza grazie anche alla partecipazione di tanti giovani che ovviamente sono loro i protagonisti del mantenimento e dell'alimentazione della memoria. Una domanda, che possibilità abbiamo ormai è troppo tardi e dobbiamo rassegnarci a che si possa far luce su quanto è rimasto ancora nascosto. Non c'è dubbio che sul piano giudiziario le responsabilità ovviamente sono state perfettamente sancite però per esempio il depistaggio, quell'azione di occultamento della verità ha sottratto definitivamente almeno finora, sono passati 44 anni, pezzi di verità importanti. Quei tre sacchi pieni di materiale cartaceo, di documenti che un carabiniere prelevò nella casa di Peppino Impastato, che fini hanno fatto? Non si trova più nulla. Quel carabiniere è lo stesso che torturò Gulotta, uno dei cinque condannati ingiustamente per la strage di Alcamo Marina, una vicenda sulla quale da bravissimo giornalista impastato aveva saputo cogliere la verità parlando di una strage commessa dai servizi segreti italiani, ovviamente quelli deviati in quel mondo oscuro. Ovviamente questa verità l'abbiamo perso per sempre perché magari in quelle carte di Impastato c'erano cose che ulteriormente ci potrebbero arricchire nella rievocazione della figura dell'opera di Peppino. Sì, tra l'altro chi ha fatto quelle indagini sulla casermetta di Alcamo sono gli stessi che poi hanno fatto quelle su Peppino Impastato e questi avevano avuto una condanna poi caduta in prescrizione, ma il comandante Subbrani poi ricompare anche nel processo Stato-Mafia, quindi diciamo non è nuovo a queste... è in qualche modo eccitato addirittura anche nel processo Borsellino perché credo che sia stonuda ad avvertire Borsellino del fatto che era arrivato il tritolo, la dinamite esposiva per lui. Quindi diciamo che è persona sempre informata dei fatti e casualmente poi si ritrova sempre in qualche modo ad avere fatto una parte in cose che sono successe in Italia. Ce ne sono tanti, tanti dopo Peppino Impastato, siamo partiti dalla partela della Ginestra per il primo intrico Stato-Mafia per proseguire con Peppino Impastato e poi la storia ci insegna che ce ne sono stati tantissimi e in nessuno di questi sappiamo, o perlomeno sappiamo la verità, ma non la sappiamo dal punto di vista giudiziario, da Falcone a Borsellino a tantissimi altri omicidi. Poi questo 9 maggio chissà perché lo sto scoprendo adesso, confesso, addirittura anche Putin vuole festeggiare un 9 maggio e quindi questo 9 maggio in qualche modo ritorna sempre, Moro e Peppino Impastato e ora scopro anche che per i russi è una festa che va ricordata, ecco, per fare dimenticare magari casualmente anche quello di prima. Nel caso ovviamente della Federazione Russa si tratta di date storiche legate un po' anche alla narrazione che in questo momento ecco da una parte la Federazione Russa che ha invaso l'Ucraina insomma viene fatta nella carne viva della storia italiana purtroppo per casualità o forse no, chissà, è accaduto che in quell'anno preciso quel 9 maggio ci consegnasse nell'arco di poche ore queste due vicende drammatiche anche se ovviamente nella coscienza del tempo solo una fu percepita subito e totalmente dopo i 55 giorni peraltro della prigionia di Moro dal sequestro del 16 marzo mentre cominciò con una piccolissima notizia quasi insignificante almeno dico non per voi ovviamente non per molti siciliani ma per la gran parte del resto d'Italia ma anche del mondo per tutti gli altri notiziola perché alla fine era qualcuno che era morto perché vittima di un atto criminoso che stava cercando di compiere poi per fortuna appunto la grande tenace il gruppo c'è la verità si è fatta largo e si è affermata ed è molto importante è un qualcosa che possiamo considerare acquisito per sempre no ovviamente nell'avvicendarsi poi delle energie umane che dai giovani che diventano anziani poi subentrano altri giovani si possa mantenere questo grande circuito di impegno collettivo che nel nome di perpino impastato siete riusciti a metter su io penso di sì penso di sì perché queste nuove già quando pensavo di costituire l'associazione anche con giovanni impastato e francesco impastato quando pensammo di dare vita al rete 100 passi non l'abbiamo pensata per metterci a trasmettere noi a fare radio era l'idea quella di mettere di creare uno strumento da mettere a disposizione dei ragazzi e credo che a piccoli passi questa cosa stia funzionando appunto con radio 100 passi ragazzi con radio 100 passi scuola perché il futuro è loro e quindi questo strumento è per loro e di loro ecco voglio che siano loro a gestirle io devo fare il nonno che un po racconta la storia è sempre con il mio entusiasmo che spesso che continua ad avere e che spesso diventa contagioso e quindi questo fa scattare nei ragazzi magari maggiori interessi e poi già basta entrare nella nostra sede del circolo musica e cultura e radio 100 passi di palermo e dove ci sono peraltro anche le attrezzature degli anni 70 appunto di radio alte e basta entrare la e fare sedere i ragazzi davanti ai microfoni o sedere quelli più tecnici davanti al mixer abbiamo due mixer 24 canali messi accanto insomma entusiasmante oppure metterli davanti a una telecamera loro che sono abituatissimi a questi all'uso insomma anche della rete e di questi strumenti tecnologici che già quando sono stati un po lì quando escono sono aggasatissime vogliono subito mettersi in movimenti a lavorare e peraltro oltre che nella coscienza di milioni di persone sicuramente nel mondo la vicenda la storia di peppino la sua testimonianza il suo atto di eroismo fino ad offrire appunto la vita perché lui sapeva benissimo ovviamente di rischiare la vita peraltro il padre l'anno prima era stato sostanzialmente ucciso perché comunque pur essendo mafioso pur appartenendo ai mafiosi pur essendo legato a badalamenti a un certo punto non si era sentito cioè di abbandonare totalmente il figlio e quindi non aveva fatto ciò che la mafia pretendeva che lui facesse sostanzialmente quindi nonostante lui diceva no ho aperto una parentesi lui ovviamente consapevolmente ha saputo offrire la vita per la idealità della sua testimonianza tutto questo oggi è presente nella coscienza di milioni di persone ma è così chiudiamo è presente anche in una vasta letteratura che va dalla musicografia alla filmografia ci sono film libri tantissimi ma anche tante canzoni visto che Danilo Sul si è anche un musicista no tantissime canzoni anche con voci importanti no da quella di Pippo Pollina la voce di Carmen Consoli a tante collane e quindi questo ovviamente aiuta anche su questo versante del registro espressivo a tenere alta soprattutto nei giovani nei giovanissimi per sempre speriamo c'è la memoria di Pippino Impastato si fa l'altro il pezzo più noto anche da parte dei ragazzi e il pezzo di cento passi di dei modena city ramb e cantato anche da cisco che peraltro l'autore adesso sono separate quindi due anni fa proprio approfittando del fatto che abbiamo fatto tutto online le commemorazioni di stiamo riprendendo in presenza solo oggi solo quest'anno diciamo ma nei due anni precedenti abbiamo fatto tutto online e due anni fa addirittura abbiamo fatto una non stop di undici ore in quell'occasione abbiamo messo insieme interventi vari ma anche parti culturali e musicali in quell'occasione abbiamo fatto una di quelle che suonate estemporane che ti sono viste in rete in quei in questi due anni e con i modena si direbbe sia io che giovanni impastato che che lui si è impastato abbiamo cantato insieme a loro i cento passi mentre loro suonavano abbiamo fatto questa questa cosa dal vivo grazie a danilo sulis presidente di della rete 100 passi il quale con la sua testimonianza la sua memoria anche per avere vissuto direttamente insieme a peppino impastato quando era in vita ecco le vicende che poi hanno portato a 44 anni fa purtroppo all'assassinio di giuseppe impastato ne parliamo così nelle ore in cui si compie l'ennesimo anniversario il 44esimo in una data che peraltro associa una tragedia della storia italiana come la scoperta del corpo di aldo moro dopo i 55 giorni di prigionia e l'uccisione di peppino impastato ucciso non soltanto come persona ma ucciso più e più volte negli anni a seguire attraverso la messa in scena operata dagli stessi assassini mafiosi di avere tentato di farla apparire prima vittima di un atto terroristico che egli stesso voleva compiere poi di un suicidio ma non era vero e per fortuna la tenacia delle persone vicine a peppino a partire dalla madre felice a bartolotta hanno fatto sì grazie poi alla opera di ripristino della verità e dell'onestà da parte dello stato rispetto alle attività di depistaggio precedenti la verità e la giustizia sono state riaffermate grazie a danilo sulis presidente dell'area 300 passi grazie a quanti ci hanno seguito e prossimo appuntamento come sempre con fatti e opinioni grazie a tutti grazie a tutti